del toro, devo dire che questa è una giornata che non vi vedrà propriamente in forma, forse siete reduci da qualche giorno di bagordi, diciamo così, vi siete lasciati un po' andare, vi siete concessi qualche, diciamo così, trasgressione di troppo a livello, devo dire di tavola, a livello culinario, a livello di fegato, e adesso magari qualcuno di voi potrebbe anche un po' pagarne le conseguenze, ma ci sta, ci sta, adesso questo giove vi aiuta comunque a superare anche questi momenti, un pochettino di difficoltà, se non proprio di crisi, perché in effetti questa è una luna che transita in un settore del cielo un po' particolare, che in questa giornata può farvi accusare qualche piccolo acciacco anche da un punto di vista fisico, ma soprattutto è che proprio non riuscite a ritrovare il giusto ritmo sul lavoro, ma è una luna che passa.